Amici di amichessibontino.net, ben trovati, siamo ad una delle ultime puntate di Vertigo, in questi dieci giorni vi abbiamo accompagnato quotidianamente alla scoperta e alla conoscenza dei candidati della provincia di Foggia per le elezioni regionali che si svolgeranno questo weekend, domenica 20 e lunedì 21. Abbiamo poche donne, una di queste è di Manfredonia, noi mi frattarò, benvenuto a Noemi. Grazie, buona sera. Si è parlato tanto di preferenza di genere, doppia preferenza, però la sostanza è che le donne hanno poco spazio in politica e so che questo è stato anche uno dei motivi che ti ha spinto a candidarti consigliere con Italia Viva da indipendente. Allora sì, la candidatura di una donna su questo territorio è importante ed è bello che ci siano anche tante donne in questo progetto, in questa competizione elettorale. Ivan ci ha tenuto moltissimo, tant'è che ha voluto una donna come capolista di tutte le sue liste della regione. Ivan ha sottolineato e specificato più volte quanto attualmente sia incredibile che nel Consiglio regionale attuale di Emiliano ci siano all'incirca 45 uomini e 5 donne, quindi qualcosa che ti sta a dimostrare, super sproporzionato, che ti sta a dimostrare che probabilmente per loro, per Emiliano, per questa giunta o probabilmente anche per una tradizione del Sud, le donne non siano sufficientemente importanti per poter dare un carattere e una determinazione nuova al territorio pugliese. Quindi noi abbiamo deciso questo, sono stata scelta, non mi sono scelta e ringrazio chi ha voluto con me questa candidatura anche perché io sono circondata da donne, sono circondata da professioniste che lavorano in tutti i settori, noi abbiamo proposte, siamo donne che hanno famiglia e che lavorano e che allo stesso tempo fanno politica, quindi tre ruoli, tre ruoli completi, tre ruoli in uno, ma che possono assolutamente, il fatto di essere donna alla politica può portare soltanto importanza e rilievo, è un valore aggiunto, non togliamo niente alla politica per il fatto di essere donne, madri e lavoratrici. Bene, in questa campagna elettorale ti abbiamo visto parlare, non di un programma, ma di parlare quotidianamente di diversi temi, organizzi verso la tua sede operativa in Corso Manfredi ogni sera dei tavoli con soggetti, appunto associazioni che si occupano a vario titolo di diversi temi. Quali sono le priorità, cosa stai emergendo da questi incontri pubblici perdono per strada? Allora, da questi incontri sta emergendo una cosa importante che accomuna tutti i settori e tutti gli incontri, tutte le persone che incontriamo giornalmente, che è la mancanza di ascolto. Tutte le associazioni e la gente che purtroppo ha dei grossi disagi a partire dal lavoro, la famiglia, la sanità eccetera, non è mai stata ascoltata, perciò non si sente rappresentata dall'attuale governo, dagli attuali consiglieri regionali del posto e quindi noi abbiamo un po' fatto quella che secondo noi è la politica, ma che probabilmente altri vedono in altra maniera, ma per noi è la politica, cioè noi partiamo per fasi, noi stiamo lavorando in questo modo, incontriamo la gente, incontriamo le associazioni, divulghiamo quello che stiamo facendo, ma soprattutto noi ascoltiamo, quella è la prima fase, l'ascolto, non c'è una progettazione, una programmazione, Matteo, specifica, perché... Un'agenda. Un'agenda, ma perché tutto purtroppo in questo territorio non c'è qualcosa che vada meglio di qualcosa altro, è tutta un'emergenza, quindi dobbiamo mettere tutto sullo stesso livello e per farlo dobbiamo lavorare come stiamo facendo noi, cioè per settore e per competenze, perché abbiamo un, grazie a Dio, un bel gruppo di persone che hanno competenze differenti, ci siamo divisi per tavoli di lavoro, come hai già detto, e quindi la prima fase è quella dell'ascolto, tavolo per tavolo, poi è quella della condivisione, perché dopo che abbiamo ascoltato i problemi del territorio lo condividiamo nel gruppo e quindi facciamo le nostre riflessioni, dello studio e poi della programmazione e speriamo in futuro quindi poi anche dell'attuazione finale, quella di poter andare a lavorare e integrare quello che noi abbiamo progettato su questo territorio. Hai particolarmente posto l'accento sulla questione femminile, la disabilità, l'ambiente e l'agricoltura, che sono poi anche un po' il tuo retaggio di formazione, sei stata anche assessore non politica alle politiche sociali del comune di Manfredonia e hai un'esperienza professionale che va in quella direzione. Quali sono le tue proposte, al netto di quelle che vengono dette dagli altri candidati, sanità, agricoltura, riferendosi a ciò che non ha fatto l'attuale governo? Quali sono le tue proposte partendo da questi temi a cui ci tieni particolarmente? Allora, le nostre proposte riguardano sicuramente quello che hai detto, le mancanze dell'attuale governo e noi le nostre proposte si rifanno al programma di Ivan Scalfarotto perché lui ha incentrato questa campagna elettorale specificando che purtroppo per 5 anni è mancato un'assessore alla sanità. Chi più di noi sa benissimo delle mancanze che ci sono state, delle conseguenze che sono avvenute a causa del fatto che non c'è stato nessuno su quella poltrona, nessuno in quell'ufficio che abbia programmato la sanità pugliese e quindi il nostro intento è assolutamente che non è uno spot, riapriremo l'ospedale, sicuramente è concentrarci sull'ospedale per fare ciò che è possibile e sostenibile perché naturalmente non possiamo riavere l'ospedale come era prima, ma possiamo sicuramente integrare delle politiche nuove di completamento che sicuramente andranno ad alleggerire anche gli ospedali che conosciamo, che sono stati poi, quelli territoriali, che sono diventati più grandi, diciamo che hanno accolto tutta l'utenza territoriale perché possiamo lavorare, soltanto dobbiamo concentrarci sulla fattibilità e sicuramente sull'impegno di assunzione perché altrimenti, come stanno adesso, sono strutture vuote, sì sì di tutto praticamente. Poi c'è il welfare, la disabilità per noi, c'è stato anche il senatore Faraone, posti che nei giorni scorsi, che si batte da anni per le disabilità. Noi ci abbiamo tenuto per mesi ad invitarlo e fino all'ultimo non si sapeva perché aveva avuto dei problemi e finalmente poi è venuto da noi, abbiamo fatto questo incontro non soltanto con chi lavora con le disabilità ma con le famiglie che vivono le diversabilità e quindi è stato un incontro incredibile perché le famiglie stranamente, che non chiedono niente, perché non chiedono miracoli, chiedevano di essere ascoltate e questa cosa non era mai avvenuta perché effettivamente sia dal punto di vista territoriale che regionale che nazionale nessuno aveva dato loro la possibilità di spiegarsi esattamente e di poter fare proposte perché chi meglio di loro può dire che cosa va fatto per aiutare non solo i ragazzi di Sala, ma anche le famiglie. Abbiamo visto che poi delle proposte molto semplici fatte dalle famiglie diventeranno delle proposte del decreto agosto del governo. Sì, è stato bello questo incontro con Faraone perché nel frattempo, proprio lì, mentre noi parlavamo, lui prendeva tutte le proposte, le iniziative dei genitori, tutte quelle difficoltà e le inviava direttamente a Roma per integrarle alle sue proposte di legge e questo per noi quindi è stato incredibile. Noi abbiamo fatto delle proposte grandi, forse anche provocatorie, però lui le ha accolte perché ha dato a noi effettivamente il titolo per poter dire io vi ascolto e porterò avanti queste proposte perché le avete vissute sulla vostra pelle, cosa che non accade mai. Legalità, sei stata la prima a firmare il patto con Molo 21 che ha lanciato questo appello ai candidati per evitare infiltrazioni di qualsiasi genere, quindi il rapporto con i giovani, la legalità, l'ambiente e l'agricoltura. Hai avuto ospite la ministra Bellanova, Manfredonia, quindi insomma temi molto quotidiani. Sì, temi territoriali perché praticamente qui abbiamo assolutamente bisogno di far coincidere legalità e ambiente. Noi abbiamo fatto un incontro proprio l'altra sera come dicevi dove ho immediatamente aderito e firmato il patto di legalità di Molo 21 perché è qualcosa di nuovo, è strano perché un politico dovrebbe già essere una figura che vuole portare avanti le realtà, trasparenza e lavorare per il territorio contro infiltrazioni mafiosi, ma purtroppo questa cosa non avviene. Abbiamo avuto una politica, una campagna elettorale fatta di ogni specie, di ogni tipo di regalo, di ogni tipo di telefonata che non è secondo noi la politica che va fatta una campagna elettorale leale, è una campagna elettorale che ascolta, che parla di sé, che propone. È una campagna elettorale che non compra ma che aiuta, che ascolta, che propone, che si mette a fianco a te per lavorare e questa cosa purtroppo non è avvenuta, anche questa volta, noi siamo stati quelli diversi, quelli che hanno proposto, che hanno lavorato per tavoli, che hanno fatto iniziative e tutto il resto purtroppo si è visto e sentito da sé. Per quanto riguarda il resto, dicevo l'agricoltura, anche quello è un punto importante di Ivan Scalfarotto perché anche in questo purtroppo Emiliano ha tenuto a sé per gli ultimi due anni, si ma oltretutto Emiliano ha tenuto a sé per due anni questa delega, quindi oltre ad essere governatore della Puglia è stato 5 anni assessore alla sanità, altri due assessore alle politiche agricole e quindi insomma le lacune si sono viste, basti pensare alla Xilella e pensate noi viviamo anche di questo, le nostre terre, voi sapete dalla Piana di Macchia fino a oltre Vieste, noi abbiamo degli imprenditori agricoli che vivono, allevatori, ma della produzione di olio extravergine d'oliva e quindi pensate se questa, la Xilella, se questo germe dovesse arrivare da Bari, perché partito da lontanissimo, arrivato a Bari, dovesse arrivare da noi sarebbe una strage, purtroppo non c'è stata una politica reale, vera, di scienza come diciamo noi e quindi c'è stato un populismo che ha accontentato, che non ha preso scelte, che non ha fatto decisioni concrete e immediate, perché là bisognava fare decisioni, prendere decisioni immediate e quindi questo è stato il risultato, noi siamo tutt'altro, noi vogliamo effettivamente e dico sempre noi, sottolineerò sempre noi, perché siamo insieme per cambiare lo slogan, è il titolo nostro, sì sì, dei nostri gruppi di associazioni che poi ripeto riguardano la scuola, la sanità, perché quando uno fa riferimento a me che vengo dal mondo delle politiche sociali, pensa sempre all'associazionismo per quello delle associazioni, del mondo sociale invece parliamo di associazioni culturali, sociali, sportive, c'è un gruppo che si occupa della sanità, infatti che si sta occupando quindi delle proposte per l'ospedale e questa è la differenza, cioè noi abbiamo delle proposte e non abbiamo paura di prenderci le nostre responsabilità. C'è anche la questione Energas che è stato sollevato da un gruppo di lavoro nelle scorse giornate, qual è la posizione su Energas? Noi abbiamo chiesto attualmente per quel pezzo di terra, perché sappiamo che Monte Sant'Angelo ha aderito ad un progetto insieme alla regione di un'azienda che sta per nascere di nuovo accanto alle nostre a Manfredonia, su Agro di Monte Sant'Angelo, nonostante quella zona a nostro avviso, perché purtroppo non siamo ancora stati completamente informati sul progetto che verrà messo in opera lì, un'azienda che porterà, pare che porterà lavoro, ma di trasformazione della plastica che potrebbe essere, che va di pari passo con Energas e che purtroppo potrebbe portare a noi un disagio, un forte disagio come quello sulla salute, quello che abbiamo già vissuto e tutto il resto. Siamo in conclusione, cos'è per te il voto utile? Come lo spiegheresti e perché bisogna votare Italia Viva, Ivan Scalfarotto e noi mi trattarò rispetto alla concorrenza, rispetto agli altri list e alle altre coalizioni? Allora, il voto utile è quello utile per la comunità, in questo momento vari politici stanno parlando del voto utile, stanno sottolineando che il voto utile è quello che non si dà a chi si crede, ma è quello che continua a seguire coloro che hanno già più voti affinché questa votazione non risulti frammentare e quindi affinché questi voti non si disperdano secondo loro verso delle politiche diverse, nuove e purtroppo per noi è stata ancora più una provocazione perché invece noi stiamo cercando di portare con Ivan Scalfarotto una politica che non sia populista, una politica che non poteva assolutamente sposarsi con la politica di Emiliano o con la politica di Fitto, perché è differente, perché sappiamo benissimo che la gente l'avrebbe voluto schierato con Emiliano, ma questa cosa non poteva essere perché dopo tutti i provvedimenti che sono stati fatti in questi giorni, il provvedimento sul regalo fatto ai novelli sposi, tutte le assunzioni fatte all'ultimo momento, l'insanità all'ultimo momento, addirittura senza concorso, tutto questo non è pensabile, non è fattibile e non può venire da parte di un uomo come Ivan Scalfarotto che invece è per la trasparenza, è per la progettazione, è per il progresso e quindi che crede in progetti che vanno studiati e programmati affinché ci sia una crescita generale del territorio e non dei singoli pochi, quindi noi non potevamo assolutamente schierarci da quella parte, il voto utile per noi è il voto che condivide i tuoi principi, noi non siamo un voto, io non sono un voto, voi non siete un voto, non dovete assolutamente farvi comprare, il voto non è quello dato all'amico, non è quello promesso, perché questa storia l'ho promesso già ad una persona, puoi promettere un caffè, non puoi promettere un voto, il voto è troppo importante perché dopo, quando passerà tutto questo, ci staremo di nuovo a lamentare, incominceremo di nuovo a dirci le solite cose sui social dove ci lamenteremo che qua manca tutto, che non è arrivato niente, ma se noi continuiamo a seguire coloro che dicono il voto utile è per me che ho l'esperienza perché sono là già da tanti anni e invece il voto utile è quello che è ragionato e che segue i tuoi principi, i tuoi valori e che dà in questo momento un'opportunità al territorio, noi facciamo la nostra proposta, quindi una proposta alternativa, saremo all'opera sempre, questa cosa comunque non finirà mai perché noi non siamo partiti, quindi si va a causa il 21 settembre, ma noi non siamo partiti quest'estate, non siamo partiti con queste elezioni, noi già lavoravamo insieme, già progettavamo, già inviavamo i nostri progetti, già avevamo invitato, possiamo parlare di un progetto civico anche per la città? Assolutamente, noi sì, non mi chiedere perché se mi parli di elezioni comunali al momento non ci abbiamo pensato e non c'entra niente, il nostro progetto civico per la città è soltanto rimetterci in piedi e riprenderci ciò che è nostro, perché non è più possibile lavorare singolarmente e poi subire tutte le conseguenze del caso, del fatto di essere soli, del fatto di non avere una comunità e un comune che ti accompagnino e che ti tutelino, quindi questo è fondamentale. Dopodiché le nostre proposte verranno col tempo, perché nulla è ragionato, noi seguiamo e studiamo le cose in maniera talmente precisa, talmente corretta e democratica, perché tutto questo, quello che noi facciamo fa parte di un gruppo, fatto così è sostenibile e noi lo proponiamo, poi vediamo, ci sarà tempo. Chi vivrà, vedrà. Chi vivrà, vedrà. Nel frattempo ti facciamo un in bocca al lupo per la competizione elettorale di domenica e lunedì ricordiamo che Noimi Frattarolo, ex assessore alle politiche sociali del Comune di Manfredoni e candidata a consigliere per Italia Viva con Ivan Scalfarotto presidente. Grazie Noimi per essere stata con noi e per averci raccontato nei dettagli le tue idee e i tuoi progetti e quelli del tuo gruppo, ti facciamo nuovamente un in bocca al lupo. Vive il lupo, l'in bocca al lupo non è per me, ma è per tutti quelli che vogliono cambiare questa terra, Manfredonia, Foggia, La Puglia e diventare finalmente quell'eccellenza di cui tutti parlano e che invece purtroppo da troppo tempo è stata abbandonata. Se avete domande per Noimi Frattarolo potete scrivere sulle sue pagine social Facebook e Instagram o scrivere a redazionechiorciodelsipontino.net sulle nostre pagine Instagram e Facebook e avremo il piacere di girare a Noemi domande, richieste e informazioni. Volentieri, volentieri. Grazie ancora per averci seguito anche in questa puntata di Vertigo ed un arrivederci alla prossima puntata.